L'oceano è un mondo misterioso. Gli esseri umani conoscono meglio il pianeta Marte che i suoi fondali. E le creature marine che ci vivono, beh, quelle che avete immaginato, le avete immaginate nel modo sbagliato. Prendete il possente Kraken, un mostro assetato di sangue che affonda le navi. Dove le avete sentite certe cose? I Kraken sono maestose creature e nobili protettori. Sono Ruby Gilman, una normale teenager. Per generazioni, i Kraken hanno protetto i mari, tenendoci al sicuro dalla creatura più assetata di potere e pericolosa di tutte. La sirena? Sì, la sirena! Ma la gente ama le sirene. Ti adoro! Ti adoro anche io, chiunque tu sia. Certo che le ama. La gente è stupida. Io sono Chelsea. Le sirene sono egoiste, vanitose e narcisiste. Io sono stupenda, Yasqueen! Le peggiori di tutte. Che succede? L'attenta! Ehi, tutto bene? Conosco il tuo segreto, sei un Kraken che si finge un umano. Devo andare adesso. E presto, tutti sapranno la verità. Così! Sei pronta per il tuo destino? Voglio solo vivere la mia vita. Hai dei poteri oltre ogni immaginazione. Questo è il tuo momento, Ruby. Non mi nasconderò! Mai più! Nonna! Sì? Voglio che mi insegni a usare i miei poteri. Mimetizzazione. Supervelocità. Corazza. Vediamo di che cosa sei capace. Ho lo sguardo l'ase. Sì! È roba forte. Sei solo una stupida ragazzina. Io sono una sirena da paura. Toc, toc! Non importa quale sia la sfida, un Kraken risponderà sempre al richiamo. È ora di fare le cose in grande!